Rincari in vista per la sosta su strada a Busto Arsizio. Le tariffe dei parcheggi non venivano modificate dal 2012. Adesso interveniamo tutto sommato in linea con gli indici di rivalutazione. Non è tuttavia un aumento generalizzato, anzi è un aumento ben preciso finalizzato a determinati scopi. E infatti andiamo ad aumentare le tariffe on street in maniera tale da decongestionare i punti critici della città e aumentare la sicurezza. Al tempo stesso non modifichiamo le tariffe per quanto riguarda i parcheggi in struttura, anzi rendiamo gratuita la sosta breve in linea con la sperimentazione già effettuata con il kiss and go e a vantaggio soprattutto dei commercianti della cintura intorno al centro storico. Ci aspettiamo un aumento degli introiti che sono finalizzati a migliorare l'offerta dei parcheggi pubblici in città e a migliorare la mobilità urbana. Miglioramenti che andremo a realizzare fin da subito, ad inizio 2024. Infatti interverremo sui parcheggi Landriani e Borroni e interverremo con delle novità di tipo tecnologico sul parcheggio San Michele. Per completare poi con il nuovo piano della sosta entro il primo semestre del 2024 nell'ambito del percorso del Pumsi. Grazie. Grazie.